bella apertura, se ne va trova stiro una polla supera la linea di porta avete tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare male la difesa, non puoi concedere occasioni del genere all'avversario devono fare più attenzione, non posso per vie centrali, finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali vediamo se può capitalizzare prova Cerci da lì può segnare, attenzione a tira la scuola in concorta questa adesso è una serie e ipoteca sulla partita ha finalizzato la perfezione questo 1 contro 1 il portiere ha fatto il possibile ma lui non si è fatto per fare ha depositato il pallone Fiorente palla filtrante per Mertens l'avversario ha avuto meglio brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione intervento decisivo, vediamo cosa succede cartellino rosso episodio che può davvero cambiare la partita ora dovranno giocare il resto della gara 10 una domanda